Il moderato fitto ha diritto di parola, fatelo parlare che è in collegamento. Forza, onorevole. Il moderato fitto è un po' incazzato guardando anche la situazione della Puglia perché è evidente che così non si può andare avanti. Mi limito a fotografare la situazione dell'hotspot di Taranto ponendo una prima domanda. Come si può pensare di portare oggi delle persone a centinaia trasferendone nell'hotspot di Taranto dove non esistono nessuna norma di sicurezza, di distanziamento e dove assistiamo ad una situazione incredibile perché basta andare a verificare se voi andate a fare quel servizio che avete fatto in Sicilia all'hotspot di Taranto verrebbero fuori delle immagini drammatiche e disastrose e dove le persone in quarantena scappano sono scappate poche ore fa 20 persone non sappiamo dove sono andate in una regione che dovrebbe porsi il problema oggi di come ripartire, di come lanciare un'immagine e l'idea anche dell'accoglienza sul terreno turistico perché abbiamo l'economia in ginocchio abbiamo una gestione pessima dell'immigrazione da parte di questo governo negli ultimi anni in modo evidente tranne una fase nella quale vi è stato un cambio di direzione ma da anni questo sistema e questo meccanismo procede in modo peggiore in assoluto in questa fase con il Covid c'è una giusta attenzione e paura ulteriore perché vedere che accade in Sicilia anziché a Taranto una situazione che è quella che abbiamo descritto prima che abbiamo visto nei servizi dall'idea chiara del caos generale che c'è e quindi è giustificata questa reazione è inutile enfatizzarla e rappresentarla come una polemica una contrapposizione è un dato di fatto reale perché ritorno a quello che ho detto all'inizio è incomprensibile come si possano prendere degli immigrati che arrivano in modo clandestino trasferirli in un hotspot in un'altra regione e consentire a questi immigrati che sono in quarantena e che molto probabilmente sono portatori del virus di scappare normalmente come sta accadendo in queste ore oltre che di vivere in una condizione drammatica quindi siamo nella dimostrazione chiara di una incapacità di gestire questo fenomeno io non so a cosa si riferisca se non sbaglio la Fusali quando ha detto che il ministro dell'interno ha espresso un progetto, un piano chiaro perché io non l'ho capito, non l'ho letto, non l'ho ascoltato beh non sono cose che si inventano così perché sinceramente è incomprensibile perché se si va a fare un salto in un hotspot in un cara o in qualsiasi centro in queste ore, in questi giorni si capisce di che stiamo parlando quindi mi sembra che sia una certezza c'è non che il ministro, il governo abbia un piano che ci si muove nel pieno caos che ci si muove nel pieno caos che ci si muove nel pieno caos